Sei pronta a prendere altri Pokémon? Mario Ready? Si, Mario Ready Kurumina Ma...yes Ma...yes Qualcuno prenderà? Eh, io non so quanti... Non lo so Mada... Qua c'è un Pokestop Giriamo la rotellina Tre pantini Kurumina! Eh, lo so Andiamo a cercarne altri, ok? Insieme con Kurumina Ah si, ma che capelli ho? Kurumina Ok, ok Very nice Kurumina, andiamo a cercare i Pokémon Pokémon! Io like Pokémon Sì, abbiamo il set Pika Pika! Dopo facciamo il video che fai Limitation di Pikachu Allora, andiamo... È che con una mano si fa un casino Come fa? Ah, questo è... Questo è UDX 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 è un po' di Pokestop È un Pokestop È un Pokestop È un casino 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 È un casino